La Camera, il PD e il PD con l'Udc hanno votato il fiscal compact e il BES, due provvedimenti che arrivano da lontano, arrivano da un'unità europea che tolgono interamente la solidarietà popolare del paese, facendo in modo che qualsiasi cosa avvenga nel nostro paese sia deciso da scherzo. Cosa che noi abbiamo sempre detto, il nostro presidente federale Umberto Bossi aveva detto vent'anni fa che bastava che Strasburgo, Bruxelles, facesse un fax e il paese Italia obbedisse. Oggi ormai questo è ormai legge, che colpisca il compact del BES, la solidarietà popolare è azzerata. Ci aspettiamo ancora ulteriormente che tolgano le elezioni politiche, le elezioni comunali e amministrative per fare in modo che sia annientata quel potere elettorale che noi tutti conosciamo, che la Granolta sta cercando di fare in modo che prenda sempre più voti e ci possa essere la possibilità di sollicare la testa. Con la festa a Giaveno, come è successo in altre parti del Piemonte, a Venaria qualche settimana c'è la possibilità di capire cosa sta avvenendo nel nostro paese, solo con la Lega e non con altri paesi. Qua al paese di Osvaldo Namoli, dal PDL, abbiamo ancora ribadito il concetto che siamo contro questo governo di tecnocrati, burocrati, mediocri. Mediocri perché in tutte le situazioni che sono creati nel loro curriculum vitae, questi tecnocrati, abbiamo visto che non hanno ottenuto niente, da partire dal Presidente Monti fino al Ministro delle Attività Produttive, ma Monti ricordo che nel 1988 era membro del Consiglio di Amministrazione della FIA. Grazie a tutti.